Ciao a tutti, spero che il volume sia abbastanza alto e che possiate sentirmi. Oggi ho deciso di parlarvi di un libro, ho deciso di farlo in una maniera un po' più approfondita rispetto al solito perché è un libro che mi è piaciuto molto e che ha sicuramente un argomento importante da trattare. Il libro è Luna di Julian Peters, è la storia di un... come lo possiamo definire? È la storia di... sì, è la storia di Liam. Di Liam e di sua sorella, Regan. La storia è questa, lo dice anche dietro, dice io l'amavo, lei era mio fratello. La storia è quella di Regan che è una ragazza di circa 15-16 anni che vive in America, che ha una situazione particolare in famiglia, ha una mamma che vive continuamente sotto psicofarmaci, ansiolitici, che si dedica molto al lavoro, che non prepara neanche mangiare, ha suo padre che sembra quasi che stia molto addosso ai suoi figli e ha un fratello di nome Liam, che è un ragazzo biondo, molto bello, le ragazze muoiono per lui, ma ha un piccolo problema, nel senso che si è sempre sentito donna da quando era piccolo. Liam ha sempre lasciato emergere il suo lato femminile che era molto più accentuato rispetto a quello maschile. Ad esempio, da piccolo, all'età di 9 anni, ha festeggiato il compleanno insieme alla sua amichetta Ashley e tutte le invitate erano femminucce. Ha poi preteso, ha fatto una lista dei suoi possibili regali di compleanno e ha chiesto, che so, delle barbie, ha chiesto un reggiseno, una cosa che invece sua sorella ha avuto di lì a qualche anno il suo compleanno. Quindi, Liam si è sempre sentito una bambina, si è sempre sentito una femminuccia. Non entro adesso nei particolari perché svelerei delle parti del libro che sono davvero toccanti, molto importanti. E quindi, la sua identità è stata sempre preparata da quella che era la sua apparenza, cioè il suo corpo. Questo ragazzo vive in un corpo che lui non vuole. E molto spesso nella società persone di questo tipo sono additate come omosessuali, come gay, quando in realtà, pare che, almeno mi sono informata su Wikipedia, quando in realtà è sotto la forma di transgender, si riuniscono sotto i nomi di transgender queste persone che non riconoscono il fatto che i sessi siano semplicemente due, cioè maschio e femmina, ma ammettono anche i gay, le lesbiche e tutti coloro i quali si trovano in una situazione come quella di Liam, cioè a nascere in un corpo che non corrisponde alla propria identità di genere. Credo che si chiami disforia. È una storia che ha, se vogliamo, simile come argomento a quella che trattava invece Middle Sex di Eugene Des, Geoffrey Eugene Des, che è un libro che ho amato moltissimo. In quel libro però si parlava di un'ermafrodita comunque, e che poi come identità si sentiva maschio. In questo libro Liam lotta per nemente contro suo padre, che cerca di vederlo il più maschio possibile, cerca di invogliarlo, di avviarlo, diciamo, a quello che potrebbe essere una carriera sportiva, che cerca di non vedere quello che succede davanti a lui, così come sua madre, nonostante accadano litigi, sembra che non voglia vedere o forse ha già visto più di tutti gli altri. Io credo che questo libro sia veramente toccante e che lascia capire molto quello che succede alle persone che purtroppo si trovano in questa condizione. È come se aveste un... è come se fosse due pezzi di uno stesso puzzle e che combinandoli non riusciste ad agganciarvi come si deve. Non sto dicendo che le persone che vivono questo problema o siano fuori di testa, non è assolutamente questo. Semplicemente ciò che ci si sente, come proprio io percepisce la nostra sessualità, il nostro essere, è differente da quello che gli altri vedono. Io potrei essere fisicamente una donna e sentirmi un uomo. Faccio un esempio. E io credo che questo libro sia da leggere assolutamente perché spiega la situazione drammatica di queste persone. Molte persone con questo problema sono state spinte al suicidio, si sono suicidate. Questo libro è commovente, è delicato, sensibile, è davvero molto bello. Che spiega anche come sia difficile per chi circonda, per chi vive accanto a queste persone, riuscire ad aiutarle, riuscire a comprenderle, perché non è facile, perché viviamo in una società che impone determinate cose, determinati punti di vista. E perfino per le persone che vivono intorno a chi vive questo tipo di problema, io sarei a dire questo tipo di dramma, non è facile venirne fuori, non è facile affrontare le cose pensando a quello che è il meglio per questa persona cara che vive questo problema. Come questo vi consiglio come argomento da approfondire, se volete, un libro, un film che si chiama Transamerica, che è uscito qualche anno fa, forse nel 2004, tra il 2003 e il 2005, non mi ricordo per maniera esatta, che è la storia di una trans. Si difoniscono una trans o un trans se nel passaggio il sesso di arrivo è femminile, si dice una trans. Se nel passaggio, nella fase tanzitoria, il sesso di arrivo è maschile, si dice un trans. Quindi in questo caso si dice una trans, una trans che fa un percorso per poter cambiare sesso, perché non crediate che è il primo sgribizzo che vi prende, vi si cambi il sesso. Semplicemente per la riassegnazione chirurgica del sesso c'è un processo particolare, cioè si va da una psicoterapeuta, si sta in cura, il psicoterapeuta cerca, lo psicologo cerca di capire al meglio se il caso è il caso di cambiare sesso, se la persona è effettivamente pronta, perché ci sono persone che poi non si rivenono pronte per questo passaggio e finiscono per cadere ulteriormente nella depressione. Quindi racconta la storia di questa trans, che tra l'altro è interpretata in maniera magistrale da questa attrice, da come faccia il passaggio, da come tutta la sua vita verta intorno alla modulazione della voce, ai modi, ed è davvero carino, è davvero grazioso il modo che hanno sia Liam che la protagonista di questo film di cui sto facendo l'esempio Transamerica, il modo che hanno di curarsi, di prendersi cura di se stesse, la voglia che abbiano di mettere un paio di orecchini piuttosto che di un altro, di truccarsi, di acconciarsi i capelli, di pettinarsi, in questo modo che è tipicamente femminile, è proprio, forse è uno dei pochi modi che abbiano a disposizione per far emergere quella che è la propria femminilità, o comunque la propria identità di genere. oltre a Transamerica potete, ahimè, leggere la storia di David Reimer, che è la storia di un, purtroppo è una storia vera, che ha avuto un problema inverso, ovvero è nato maschio, insieme al suo gemello, quindi c'è stata un'operazione, ma non è data a buon fine, cioè il fratello non è stato operato, invece in realtà si chiamava Bruce all'inizio, Bruce Reiner viene operato, c'è un problema con la corrente, insomma, per dirla breve, gli causano un problema non indifferente, gli bruciano praticamente il pene, e i genitori sono spinti dal rimorso, dalla disperazione, dalla vergogna, si chiudono insomma nel loro isolamento, non sanno come uscirne, finché un giorno in televisione non sentono parlare il medico John Money, quale cognome più azzeccato per quest'uomo, che evita in una trasmissione una donna a parlare e dopo asserisce che questa donna quattro mesi prima si chiamava Richard ed era un uomo, pertanto questi due genitori, genitori di Bruce Reiner, sono disperati, quindi contattano questo medico pensando che questo medico possa aiutarli. Secondo questo medico non nasciamo con un'identità di genere, ma è l'ambiente che ci circonda che ci suggerisce che noi siamo maschi o femmine. Quindi c'è questo incontro tra il medico e questi genitori e questo medico dice possiamo risolvere il problema del piccolo Bruce facendogli credere di essere una femmina, trattatelo come una femminuccia, gli cambiamo il sesso, gli facciamo fare una cura ormonale, gli regaliamo giochi da bambino, una bambina e cose di questo genere. Quindi Bruce, che poi diventa Brenda, viene cresciuto come una femminuccia, le fanno i codini, le danno la gondellina, ma quando comincia ad andare a scuola e anche in precedenza, già all'asilo, Bruce continua a farla pipì in piedi, anzi Brenda, Brenda continua a farla pipì in piedi, interviene nei litigi con suo fratello, picchiando altri bambini, si comporta da maschio, si protegge da maschio. Questo ha dimostrato, questa storia purtroppo è vera e dimostra come essendo nato Bruce maschio, l'identità di genere nasce con noi e in Bruce era maschile, si è sempre sentito un maschio. Questa storia poi degenera, io comunque vi invito a leggere, ciò che riguarda lui, basta di citare su Google, la storia di David Reiner, poi vi si spiega anche perché da Bruce si è chiamato Brenda, poi da Brenda David, lo capirete da soli, e c'è un libro che è stato scritto che si chiama As Nature Made Him, come Natura l'ha fatto, che denuncia quella che è stata, questo che è stato, ahimè, un esperimento, stavo dicendo, c'è questo libro di John Colapinto, perché a un certo punto Brenda continua ad avere questi problemi, continua a comportarsi come maschio, a fare botte, le insegnanti, le maestre, fanno notare come la bambina potrebbe avere dei problemi, quindi spingono la mamma a portarla a un psicoterapeuta, inoltre, questo John Money crede di poter tenere sotto controllo la situazione, facendo una visita ogni anno a questa bambina, a questa Brenda, insieme al fratellino che ha appunto il suo gemello, il fatto è che in queste, queste visite, in queste sedute, questo John Money faceva vedere i bambini, dei film di porno, delle immagini sconce, e chiedeva poi a loro di riprodurle, quindi cercava di assegnare una identità di genere a un bambino che l'aveva già di per sé e che sentiva ovviamente un maschietto. La storia di David Reimer dimostra come vivere in un corpo che non corrisponde alla propria identità di genere è terrificante. La natura fa delle cose perfette, ma la natura a volte sbaglia e molte persone non riconoscono questo tipo di problema, molte persone pensano che chi ha questo problema, chi vive questo problema sia semplicemente malato, non è così. Leggere questo libro vi farà capire come sia difficile semplicemente vivere in una situazione di questo tipo. Io mi sono sentita di fare questo video in maniera dedicata e particolare perché Luna è davvero un libro straordinario 14,50 euro per chi non volesse acquistarlo nuovo potrebbe trovarlo anche di seconda mano su alcuni siti come il Libraccio visto che costa 7,25 euro in questa storia è straordinaria è scritta in una maniera delicata graziosa e dimostra è anche divertente in certi punti perché ovviamente la storia è raccontata da Regan la sorella di Liam loro hanno un porto molto particolare Regan ama e odia suo fratello ed è particolare ed è curiosa l'idea che lei abbia il fratello di come insomma cerchi di assecondarlo per il suo bene perché gli vuole bene e di come dall'altro canto non riesca in qualche modo a separarsi dalle vie di suo fratello nonostante suo fratello non sia suo fratello ma sua sorella lo dice la frase stessa io l'amavo lei era mio fratello davvero un bel libro davvero un tema che non sempre viene affrontato non sempre viene affrontato nel migliore dei modi i film che trattano determinati argomenti vanno visti e vissuti per quello che sono e per quello che possono trasmetterci senza prendere alcun tipo di pregiudizio la stessa cosa vale per i libri si finisce per voler bene Reagan e Leah libro consigliatissimo 5 stelline se avete voglia di fare un salto nella quotidianità di chi ha di chi si trova purtroppo a vivere in un corpo che non corrisponde alla propria identità di genere chi non riesce ad esprimersi nonostante nonostante una prorompente femminilità e che debba comunque adottare contro l'aspetto maschile che le è stata segnata dalla natura beffarda dovete leggere l'una niente di sconcio spero in questo modo di avervi messo curiosità sull'argomento vi metterò tutti i link ovviamente nel box che dire alla prossima grazie a tutti